Un anno pieno di decisioni prese e scelte fatte, dopo anni in cui per vicende varie e note la città di Antona aveva vissuto una faglia di stallo e di mancate decisioni. Esempi, messa in sicurezza del bilancio dopo i pesanti rilievi della Corte dei Conti e dopo l'emersione ad agosto del 2013, cioè a un mese dopo l'insegnamento di questa nuova amministrazione, di un debito fuori bilancio ulteriore rispetto a quelli già noti alla storia e alla cronaca, di 1.800.000 euro, le famose spese legali arretrate di anni di questo comune, 1.800.000 euro. Quindi abbiamo innanzitutto preso iniziative per rispondere con i fatti, con scelte amministrative ai rilievi che la Corte dei Conti, sezione controllo, aveva fatto nel 2012-2013 al comune di Antona. Ripeto, messa in sicurezza e copertura dei debiti fuori bilancio, dopo di si bisogna trovare le risorse, i soldi per i debiti fuori bilancio, cessazione della immoragia delle perdite per le fondazioni teatrali e cioè decisioni, sono decisioni queste, decisioni organizzative, costituzione del nuovo soggetto, il consorzio eccetera, che consentissero risparmi di costi, e nel caso risparmi di costi per un milione di euro all'anno, punto per fermare l'emoragia delle perdite. La fondazione Muse ha chiuso il 2013 inutile. Siamo intervenuti sulle partecipate, quelle che presentavano criticità da questo punto di vista, come segnalate dalla stessa Corte dei Conti, e cioè Ancona, Vienniche e Conere Mus, facendo anche più operazioni, sia sulla governance, cioè sulla nomina di consigli di amministrazione con un mandato preciso. Non a caso a Conere Mus il presidente è un uomo d'azienda che ha sempre lavorato con aziende private e nel consiglio di amministrazione sono stati inseriti accanto a persone di esperienza amministrativa e che rappresentassero, diciamo, la volontà dell'amministrazione, altre persone, oltre al presidente, altre persone con forti esperienze manageriali. Stessa cosa per Ancona Ambiente, in cui è stato indicato come amministratore delegato l'ingegnere Ciotti e con mandato di ristrutturazione di queste aziende per quanto riguarda Coro Robussi con il mandato della chiusura e il pareggio per il 2014. E per quanto riguarda Ancona Ambiente con il progetto della confluenza, c'era un'azienda unica provinciale con i servizi per la gestione ambientale. Quindi siamo intervenuti su tutte le criticità che erano state segnalate precedentemente ed era evidente che a queste andava data priorità, anche temporale. Poi ci siamo invece appassionati a decidere, quindi a dare risposte in tema di riqualificazione urbana della città, variante agli usi urbanistici, alle destinazioni d'uso e per facilitare i cambi di destinazione d'uso e dunque le attività produttive, in particolare, ma non solo, variante che anche questa, come è noto, era appesa da anni dalle categorie e che non era stato possibile approvare nella precedente legislatura. Variante al Metropolitan, qui non c'ho bisogno di dire variante al PRG relativa al Metropolitan, non c'ho bisogno credo di dire che era anche questa un'araba penice che girava da anni nel comune della città di Ancona senza trovare alcuno sbocco, è stata approvata. Così come l'annosa questione dei Deorsi, e in particolar modo per quelli che riguardano il centro storico, sbloccata la questione dei Deorsi, con accordo pieno con gli operatori economici e con la sovrintendenza. Porteremo al prossimo Consiglio Comunale il nuovo regolamento comunale concordato con la sovrintendenza e con gli operatori che prevede l'apertura, tutto l'animo permanente, dei Deorsi, dovunque compresa davanti alla Fontana del Calamo. E per tutto, Corso Mazzini.